Sono Paolo Cianferroni di Caparsa, posto a Radda in Chianti. Il vino è un alimento, secondo la mia visione, che proviene appunto dai contadini toscani che coltivavano il vino proprio come sostentamento, perché è un contenitore di energia prontamente assimilabile. Si può dire che adesso ormai il vino è diventato un prodotto voluttuario, ma senza vino io per esempio non potrei mangiare. E quindi mangiando il vino può allungare la vita, perché ha anche degli effetti benefici. Sapete che contiene delle sostanze come il risveratrolo, come la quercetina, un antiossidante, addirittura un anticancro. Sì, in quantità omeopatica, però sicuramente è un alimento che se bevuto in modi e quantità può allungare la vita. I miei clienti mi descrivono come contadino. Io ho costruito una grande famiglia insieme alla mia compagna e senza di lei non avrei potuto fare quello che abbiamo fatto negli ultimi 40 anni. Abbiamo costruito una grande famiglia, quindi sono nati cinque figli e spero che la mia azienda potrà continuare in futuro.